Il Paradiso, anticipazioni ultime puntate, Marco dichiara a Gemma, Tancredi furioso. L'appuntamento con le ultime puntate del Paradiso delle Signore è confermato fino al 5 maggio in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della SOP rivelano che per Marco arriverà il momento di uscire allo scoperto e fare chiarezza su quelli che sono i sentimenti che provano nei confronti di Gemma. Spazio anche alle vicende di Matilde e Vittorio, i quali si mostreranno sempre più complici, al punto da far irritare Tancredi. Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate del Paradiso delle Signore 7 in programma sulla rete Ammiraglia Rai fino al 5 maggio 2023. Rivelano che Marco riuscirà finalmente a far chiarezza e luce su quelli che sono i sentimenti che provano nei confronti di Gemma. Per il ragazzo, dopo aver tenuto a lungo questo segreto, arriverà il momento di uscire allo scoperto e far chiarezza sulla Zanatta. In queste settimane, infatti, il giornalista aveva avuto modo di parlarne solo con Matilde. Alla quale aveva confessato tutta la verità sui sentimenti che, ancora oggi, provava nei confronti della sua ex fidanzata. In dolce attesa del suo primo figlio. Marco, quindi, deciderà di dichiararsi alla sua amata Gemma, confessandole di provare ancora qualcosa di forte nei suoi confronti e di essersi ne reso conto dopo il rientro a casa. In seguito alla fine della sua storia d'amore con Stefania. Tanto basterà a fare in modo che Gemma si convinca ad uscire allo scoperto con il suo ex. Le anticipazioni sulle ultime puntate del Paradiso delle Signore 7 rivelano che, a quel punto, la Venere si renderà conto che Marco deve venire a conoscenza della verità sulla sua gravidanza. Per tale motivo, quindi, la Venere deciderà di confessargli che è lui il padre del bambino che porta in grembo. Una notizia clamorosa e al tempo stesso inaspettata, che finirà per creare un grande caos nel finale di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1. Occhi puntati anche su Tancredi, le anticipazioni sulle ultime puntate della settima stagione rivelano che l'uomo si renderà conto di essere insofferente al rapporto speciale che si è venuto a creare tra Matilde e Vittorio. Sì, perché Tancredi riuscirà ad intercettare degli sguardi complici tra sua moglie e Conti, che lo manderanno su tutte le furie. Tancredi, infatti, si renderà conto che tra i due vi è ancora un sentimento speciale e tale situazione, non gli farà affatto piacere. Al centro delle puntate conclusive di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1. Ci sarà spazio anche per l'importante novità legata alle vicende di Ludovica. La ragazza, infatti, si ritroverà ad accettare la proposta di matrimonio lampo che le verrà fatta da Ferdinando. Il tutto avverrà durante il breve periodo in cui Marcello lascerà Milano per andare a Ginevra e mettersi sulle tracce della Contessa Adelaide. E, al suo rientro in Italia, Marcello si ritroverà a dover affrontare questa clamorosa notizia legata alla sua ex fidanzata, la notizia delle nozze, infatti, lo lascerà senza parole.